Se tu corri, lui corre. Se tu ti coccoli, anche lui lo fa. E se tu mangi sano, anche lui mangia sano. Perché Natural Trainer usa la scienza per selezionare e combinare ingredienti specifici di origine naturale secondo le particolari esigenze del tuo cane. Natural Trainer, l'unione tra natura e scienza.